Nei casi di problemi di fertilità esiste la cadenza popolare che in molti casi la responsabile è l'incompatibilità tra i membri della coppia causato da qualche problema genetico senza soluzione e per cui dobbiamo rassegnarci e accettarlo. Come tutte le cadenze popolari nasconde qualche verità. Circa il 20% dei problemi riproduttivi sono dovuti a motivi genetici. Difatti lo scopo di numerose analisi richieste per lo studio di fertilità dei pazienti che si recano presso il nostro centro consiste nello stabilire se esiste una base genetica nel problema riproduttivo della coppia. Ma fino a poco tempo fa non esistevano analisi di compatibilità genetica. I progressi della tecnologia di sequenziamento del DNA permettono oggigiorno di offrire ai pazienti nuove possibilità di diagnosi. Al giorno d'oggi esistono nuovi test genetici che permettono di analizzare se entrambi i membri della coppia sono portatori di qualche malattia ereditaria che potrebbero trasmettere ai propri figli. Questi studi analizzano le malattie ereditarie di tipo recessivo. Vale a dire malattie che presentano sintomi solo quando uno dei due geni che si ereditano dai genitori sono entrambi mutati. Le persone che hanno un solo gene mutato sono portatrici. Possono quindi trasmettere la malattia ma non soffrirne. Tutte le persone siamo portatrici di qualche malattia. Il problema sorge quando i membri della coppia sono portatori della stessa malattia perché in questi casi esiste una probabilità del 25% che i figli ereditino entrambi i geni mutati e di conseguenza siano malati. Questi nuovi test genetici permettono di analizzare più di 600 malattie ereditarie recessive e scartare la possibilità che entrambi i membri della coppia condividano la mutazione dello stesso gene, riducendo così il rischio di trasmissione di malattie ereditarie. Fortunatamente esistono alternative nell'ipotetico caso in cui la coppia condivida mutazioni nello stesso gene. Questi pazienti richiedono un adeguato consiglio preconcettivo grazie alla genetica, che oggigiorno ci permette di offrire soluzioni come la diagnosi preimpianto, DGP, che eviterà che il futuro bimbo soffra una possibile malattia. Grazie a tutti.